Nella prima parte della giornata abbiamo riconfermato tutto il nostro sostegno all'assistenza sanitaria, alle donne e agli uomini che fuggono in queste ore dalla guerra. È stato il primo pezzo della nostra discussione, con una grande condivisione, un impegno a sostenere in modo particolare i paesi confinanti con l'Ucraina che vivono in queste ore situazioni più complicate, ma un impegno chiaramente da parte di tutti i paesi ad accogliere pazienti e a fornire la massima assistenza sanitaria a tutti coloro che in queste ore arrivano nei nostri paesi. L'Italia lo sta già facendo, già da numerose settimane i nostri ospedali, le nostre reti sanitarie, sia pediatriche che non pediatriche, stanno aprendo una disponibilità vera e già sono tante le persone che abbiamo accolto nel nostro paese. E l'impegno è a continuare nella maniera più forte e più determinata possibile questo lavoro di accoglienza, anche in piena sintonia con una solidarietà molto forte che viene da parte della popolazione. Noi offriamo il vaccino Covid, come altri vaccini altrettanto importanti, alle persone in arrivo dall'Ucraina.